Ciao a tutti ragazzi, io sono Mimi Sando e oggi sono qui a casa della piccola Kiki per fare questo premiere. Anche lei lo farà, uscirà sul suo canale quando uscirà anche il mio, quindi guardate il mio e poi correte a guardare il suo. Nel mio premiere parleremo di novità e il prossimo uscite di video. Quindi, sigla e poi iniziamo! Ciao a tutti ragazzi, allora questa quindi era la sigla, allora prima novità, probabilmente io tra giugno e luglio andrò da Miniso e comprerò uno dei suoi peluche, quindi vi farò la recensione, cosa ne penso, cosa non penso, poi la linea Miniso per Sario, cioè la comprerò, quindi Cinnamoroll, Lottitti, Maimelo, Diguromi, questi personaggi qui e quindi non vedo l'ora e cercherò, non so se le posso prendere, le lattine Chupa Chups, però questo non ve lo posso promettere, quindi se non c'è nel video non vi verrete perché non so se le posso prendere. Prossima novità, sigla numero 2, non sto scherzando, non c'è una sigla numero 2, comunque, ora, lasciamo entrare insieme a noi la piccola Kiki per continuare il premiere. Allora, piccola Kiki, vorresti fare un'altra collaborazione? Cioè, perché ne avevo fatto un sacco. Allora, dove la vorresti fare questa collaborazione? Ti piacerebbe farne anche qualcuna d'estate? Sì, voglio. Al mare? C'è formata la musichetta. Un giorno, noi, d'estate, probabilmente, ma quasi sicuramente, faremo un premiere al... Ma, ecco. Quindi, queste erano le novità, quindi uscirà, quasi sicuramente megaissimo, la collaborazione con la piccola Kiki, e il vlog premiere da Miniso. Quindi, io vi saluto, un bacione, però non ve lo posso mandare perché ho l'emoji, un abbraccio virtuale, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! For the small Kiki. Ciao!